Buonasera, siamo emozionati un po' per questo giorno, perché? Eh, perché dovrò far fare le promesse di Zambatenne Bene, ma abbiamo qualche Zambatenne qua? Chi è che diventa lupetto? Ah, quindi voi diventate lupette? Siete un po' emozionati però, eh? Si vede, si vede Non parlo di emozione di Luca Ma il fazzolettone ce l'hai, il fazzolettone l'hai messo? No Perché non? Non ho ancora fatto la promessa, non ce l'ho Ma domani, ma domani Domani me lo daranno, a meno che non è meglio Ma tu già la sai la promessa, come si dice? Si Perché uno scout che già l'ha fatta, dovrebbe sapere, è vero? La sola, la sola Vai, vai Prometto con l'aiuto e l'esempio di Gesù di fare del mio meglio Nel migliorare me stesso Nel aiutare gli altri nell'osservare la legge del bravo Prometto con l'aiuto e l'esempio di Gesù di fare del mio meglio Nel migliorare me stesso Nel aiutare gli altri nell'osservare la legge del bravo Allora sicuramente domani torneremo vincitori E papà pagherà a tutti Ciao Daniele, futura lupetto domani? Si è emozionato? Fammi vedere come si è emozionato Un po' pesante questo zanno Se ne va di sperare Ma tu sei un po' emozionata però Perché voi vi ricordate quando avete fatto voi la promessa? Io mi ricordavo anche che non mi ero pettinata per niente Alice è benvenuta nella grande famiglia a scavola Lui aveva spiaccicato e poi appena finiva il cappello Mi ha schifo proprio, vero? Oh, condiamo le colonne Caprile, caprile, ma domani diventi lupetto? No Ma i lupetti sono tutti un po' emozionati Un po' emozionato Comentiamo questa defiance di Turino Si, perché insomma Per farsi venire la febbre per non pagare Giusto il punto, la verità Che cosa sta facendo? Sta male a lei Ma è vero o è una scusa perché non voleva pagare il caffè? E' vero Con l'aiuto dell'esempio di Gesù di fare del mio meglio Nel migliorare me stesso, nell'aiutare gli altri, nell'osservare la legge del prego Dipetelo Volele portate Il Volele portate Il Volele portate Cosimo Washi, Washi Velenoso Washi, Washi quando veno Washi Washi molto vero Washi, Washi tutti gli altri Oh yeah Ripeto Prometto con l'aiuto dell'esempio di Gesù di fare del mio meglio In migliorare me stesso, nell'aiutare gli altri dell'esempio dell'Eldo L'esempio dell'Eldno Excuse Valve Grazie per la richiera di benedizione Lo spezzone hell Del l'oro e rischio Renderla E mangiatele tutti, questo è il mio corpo, ho perduto il sacrificio per voi. E mangiatele tutti, questo è il mio corpo, ho perduto il sacrificio per voi. E mangiatele tutti, questo è il mio corpo, ho perduto il sacrificio per voi. E mangiatele tutti, questo è il mio corpo, ho perduto il sacrificio per voi. E mangiatele tutti, questo è il mio corpo, ho perduto il sacrificio per voi. E mangiatele tutti, questo è il mio corpo, ho perduto il sacrificio per voi. E mangiatele tutti, questo è il mio corpo, ho perduto il sacrificio per voi. E mangiatele tutti, questo è il mio corpo. In Italia. E' quello che hai fatto? e e Grazie a tutti Grazie a tutti